Tra le biellesi in campo solo la Fulgor Valdengo nello scorso weekend di calcio. I ragazzi di Mister Peritore erano impegnati sull'erba dello stadio Picco di Trino, in palio punti pesanti per la salvezza. Uno scontro diretto per restare fuori dall'insidiosa zona play-out, che purtroppo ha sorriso ai vercellesi padroni di casa. I bianco-celesti, in versione verde fluo, compiono così un importante balzo in avanti che li mantiene al di sopra della zona tiepida, dove rimane invischiata ancora la Fulgor, attualmente quart'ultima. Succede tutto nel primo tempo. Dopo una decina di minuti, il vercellese Peretti gira in rete dal cuore dell'area un cross calibrato in mezzo dalla fascia sinistra. Retroguardia valdenghese decisamente immobile, un gol da mordersi le mani. Il vantaggio del Trino tuttavia non indirizza la partita. Le occasioni non mancano, sia da parte della Fulgor che del Trino, che tuttavia non creano grossi grattacapi a Cioffi e Dinaro, i rispettivi portieri. Il pareggio biellese arriva al quarantesimo di gioco. Altro cross stavolta dalla destra. C'è un contatto in area, si potrebbe parlare di rigore, ma Muzzolon si inserisce bene dalle retrovie e mette in porta il pallone. Non passa nemmeno un minuto, che arriva il gol che deciderà la partita. Decisamente non un gol che si vede tutte le domeniche. Il centrale del valdengo, Menga, non si intende con il suo portiere Dinaro. Un pallone innocuo si trasforma in un velenoso retropassaggio che coglie di sorpresa l'estremo difensore. Rimbalza lento, ma inesorabile verso la porta, accarezza il palo e supera la linea. Un autogol da Cineteca. Nella ripresa non accadrà più nulla di eclatante. Una sconfitta pesante per la Fulgor, non tanto per il risultato quanto per la dinamica. Dall'altro lato della classifica, la biellese era costretta al turno di riposo. Ne ha approfittato l'Ostresa, che di misura, al Forlano, ha battuto l'aliceso Orizzonti. 1-0 firmato Manfroni, quel tanto che basta per sorpassare la biellese, che ha una partita in meno, e tornare in vetta. In calza anche l'Oleggio, che batte il Varallo in casa per 2-1 e si posiziona a meno uno dai bianconeri. In maniera silenziosa, gli arancioni novaresi sfruttano una notevole solidità per inserirsi nella lotta a promozione. Una sola sconfitta per loro finora, esattamente come la biellese. Il campionato è lungo.